Una giornata particolare per Sovere Mannelli che ha ricevuto Claudio Lotito, il cui padre è nato a Sovere Mannelli nel 1923. La sua presenza per noi è molto significativa perché non è solo un ritorno nella memoria ma è anche un'occasione concreta per confrontarci con un grande imprenditore e con un presidente di una squadra di calcio importante del nostro Paese e in questo modo per creare sinergie tra la nostra comunità e il resto d'Italia. E crediamo che sia importante la sua presenza perché già dall'afflusso di pubblico che c'è stato in questa sua visita abbiamo riscontrato che la nostra idea era giusta anche perché dovunque può andare un cantante, può andare un uomo di spettacolo, basta pagare. Claudio Lotito è venuto proprio a Sovere Mannelli per il legame incancellabile che ha con la nostra comunità e speriamo che questo sia l'inizio di un proficuo cammino.